Il centrocampista brasiliano avrebbe detto no al rinnovo col club ucraino. L'intero serva secondo quanto riferito da marca. Barnard sarebbe ai ferri corti con lo Shakhtar. Il giocatore potrebbe firmare con qualsiasi squadra a partire dal 30 giugno, e dopo il secco no al rinnovo con il club ucraino non mancherebbero le lusinghe dei top club europei. Sempre stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna il Sevilla avrebbe annotato il profilo del brasiliano sul suo tacquino in vista della prossima stagione ma la formazione di Montella dovrà abbattere la concorrenza di Chelsea ed Inter, quest'ultima in prima fila è sempre vigile sull'evolversi della situazione.